Oggi è arrivata questa meraviglia per una snodatura, perché sotto la pancia è piena piena di nodi. E adesso iniziamo il lavoro. Questo è il pelo che abbiamo già tolto. L'è la prima volta che viene qua, è piena zeppa di nodi. E leviamo il sotto pelo. Guardate già qua quanto ne abbiamo tolto. E' importantissimo spazzolare con un pettine corretto il pelo dei vostri gatti per evitare che poi si formi tutto questo. E questo è tutto il pelo, il sottopelo e i nodi che abbiamo tolto grazie all'aiuto di questo pettine. E' importantissimo, ripeto, spazzolare il vostro gatto, proprio per evitare che tutto questo pelo morto gli rimanga ad osso, perché non è salutare e ovviamente l'ossigeno non arriva diretto alla tute, perché questo forma una specie di tappeto. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Grazie a tutti.